buonasera a tutti da marcello bassi in questo breve video andiamo ad analizzare come si effettua un ripreso in dati di fabbrica sul samsung galaxy note edige qualora vi fosse qualche malfunzionamento andiamo a levare le pellicole che mi sono rimaste sulle dita semplicemente basta andare sulle impostazioni il quale shortcut possiamo trovare nel pannello delle notifiche qua in alto dopodiché andare a cercare backup e ripristino che la voce si trova all'interno della categoria personalizzazione quindi si trova backup e ripristino andiamo a procedere con un tap qualche dei backup personali ripristino dati di fabbrica eccolo qua ma sarà semplicemente si chiara ripristino dati di fabbrica ci informa che tutti i dati cancellati dalla memoria del dispositivo inclusa account google da altre applicazioni musica foto altri dati utente c'è la decrittografia per i file sulla scheda sd pertanto dopo proprio è come uscito da casa samsung quindi noi questo procedimento non andiamo a defrarlo basterà scacciare qui e dopo probabilmente dare un altro ok il telefono si riavvierà e sarà proprio come appena uscito dalla scatola noi non andiamo ad effettuarlo perché abbiamo già inserito scheda sim e micro sd pertanto andremo a perdere tutti i nostri dati preziosi anche per questo video è tutto un saluto da marcello bassi e da formobiles.info vi invito come al solito a seguirci nei canali social sotto elencati ciao grazie a tutti